ciao a tutti oggi con questo video tutorial andiamo a vedere come si realizza questa particolarissima borsa realizzata ad uncinetto con un filato davvero davvero speciale andiamo quindi subito a vedere cosa occorre e come si realizza per realizzare la nostra bellissima borsa abbiamo bisogno di filato lara color blu cobalto o del colore che voi preferite e filato nero per realizzare il fiore per realizzare tutta la borsa io ho utilizzato poi abbiamo bisogno di una chiusura anche questa la trovate alla testina queste con il ciocchetto ovviamente potete utilizzare la chiusura che più vi piace però questa qui con il ciocchetto direi che completa in maniera fenomenale la nostra delicatissima e deliziosa borsa da sera perfetta per la notte dell'ultimo dell'anno ha i due gancini ai quali poi poter attaccare la catenella ed è veramente stupenda nella box informazioni sotto al video vi metto tutti i link ci sono delle chiusure nuove che sono arrivate che sono veramente spettacolari lavoriamo il nostro progetto con l'uncinetto numero 4 poi ci serve un ago da lana un paio di forbici e io la fodera della mia borsa la faccio in tulle quindi vado a realizzare una foderina in tulle voi utilizzerete il prodotto che più preferite per la vostra fodera però il tool e mi ispirava bene il materiale che ci occorre lo abbiamo andiamo a vedere come si realizza la nostra borsa iniziamo montando 24 catenelle con il filato dell'uncinetto numero 4 dopodiché ne facciamo un'aggiuntiva iniziamo saltando la prima maglia dall'uncinetto la prima la seconda di 24 maglie basse che andremo a ripetere in righe di andate ritorno per 24 quindi facciamo 24 righe di 24 maglie basse una volta che avremo terminato di lavorare i nostri 24 righe di andate ritorno a maglia bassa ci ritroveremo con un quadrato perfetto di 16 centimetri e mezzo per 16 centimetri e mezzo la controllate se il quadrato è perfetto vi basta piegarlo a metà e quando i lati combaciano tutti perfettamente significa che il vostro quadrato è perfetto adesso andiamo a lavorare in tondo quadrato andiamo a realizzare nella prima maglia del del giro quindi voltiamo come se dovessimo andare a lavorare la venticinquesima riga entriamo nella maglia direttamente senza fare catenelle entriamo proprio nella maglia e ne lavoriamo tre nella prima quindi la maglia normale più due una due e tre quindi andiamo aumentare due maglie in ognuno degli angoli perché adesso andando appunto a lavorare in tondo andiamo a riprendere tutte le maglie intorno al nostro quadrato quindi adesso andremo a riprenderne altre 23 maglie perché la prima l'abbiamo già lavorata quindi lavoriamo tutte le maglie sino all'ultima come detto una volta che abbiamo lavorato tutte le maglie nell'ultima quindi 20 abbiamo avuto 22 maglie perché la prima non la contiamo abbiamo già realizzato in quella il primo aumento doppio lavoriamo poi 22 maglie nella ventitresma maglia dopo il primo aumento doppio ne facciamo un altro quindi lavoriamo una due e tre maglie basse adesso andiamo a riprendere nuovamente 22 maglie dalla costina quindi entriamo in ognuno dei punti dei punti relativi alla alla riga sono 24 righe dobbiamo avere 24 punti il primo e l'ultimo non lo contiamo perché sono quelli dove facciamo l'aumento e andiamo a realizzare 22 maglie una due sino 22 una volta che avremo ripreso tutte le maglie lavorando negli angoli 3 maglie basse in ognuno degli angoli ci ritroveremo nel nostro lavoro 100 maglie perché 22 sono interna interna gli angoli per ogni lato quindi 22 per 4 fa 88 più 3 6 9 12 abbiamo 100 maglie dobbiamo ottenerne 102 2 per ottenere 102 maglie andiamo a realizzare due aumenti nel corso del primo giro perché adesso andiamo a lavorare 25 giri concentrici di 102 maglie e dobbiamo realizzare quindi due aumenti primo momento realizziamo all'interno delle prime 50 maglie quindi lavoriamo 48 maglie facciamo un aumento lavoriamo altre 48 maglie facciamo il secondo momento anche se non sono precisi non importa abbiamo bisogno di 2 maglie in più quindi lavoriamo 48 maglie tranquillamente dalla prima fino alla 48esima nella 49esima facciamo un aumento ripetiamo per due volte quindi 48 maglie aumento 48 maglie aumento dopodiché andiamo a lavorare un totale di 25 giri concentrici di 102 maglie una volta che avrete terminato i 25 giri andremo a fare un giro di diminuzioni e lo faremo facendo 15 maglie basse una diminuzione io ne ho già realizzate 3 di maglie basse procedo con le mie 15 quindi 4 5 sino 15 una volta lavorate le 15 maglie basse procedo con la diminuzione la diminuzione la eseguiamo in questo modo entriamo nella prima costina esterna della prima maglia che vogliamo diminuire entriamo nella costina esterna della maglia successiva da diminuire lavoriamo la maglia bassa dopodiché scusate lavoriamo le due costine insieme dopodiché lavoriamo la maglia bassa e procediamo lavorando 15 maglie basse una diminuzione per tutto il giro che terminerà con 96 maglie basse prendiamo adesso la stoffa che abbiamo deciso di utilizzare per fodera e ne tagliamo una striscia lunga 75 centimetri e alta 16 quindi 75 centimetri di lunghezza e 16 di altezza e per il fondo ne tagliamo uno che sia esattamente uguale al nostro fondo io ora ve l'ho detto utilizzo per il mio lavoro un pezzetto di tulle che voglio che la fodera sia il molto molto leggera dal momento che il filato non è proprio una fiuma quindi non voglio che la mia borsa diventi esageratamente pesante quindi la fodera la realizza potrei anche non realizzarla perché la lavorazione è molto fitta però la foderina si realizza per rifinire la borsa quindi la facciamo e al vado a realizzare questa foderina però per rendere la borsa più io vi ho detto che la mia foderina la realizzo con il tulle e quindi vado a cucire adesso con il filo trasparente quindi ago e filo trasparente vado a cucire tutto il fondo della della fodera al laterale quindi andrò a realizzare lo stesso cubo che ho fatto con l'uncinetto lo faccio con la fodera quindi vado a cucire prima ovviamente da un lato cucirò questo lato dopodiché piego giro cuccio da questo lato termino qui giro e cuccio dall'altro fino a che li ho cuciti tutti e quattro vedete in questo modo dovete cucire la vostra fodera andando a unire la parte lunga diciamo la striscia lunga al fondo così cucite facendo un punto festone unendo i lembi e facendo un punto festone così una volta che abbiamo terminato di cucire tutta la fodera intorno al quadrato andremo a chiudere il laterale che rimane aperto se avanza un pochino di stoffa andrete a piegarla perché poi andremo a rigirarla la fodera e la mettiamo al contrario così andiamo a cucire tutta la fodera anche nel lato aperto una volta che avrete terminato di assemblare completamente la fodera non tagliate il filo di cucitura perché vi servirà se se ne avete un bel pezzetto ancora attaccato ovviamente se ne avete poco lo chiudete andate a ripiegare la fodera in questo modo così in modo che le parti in esubero della vostra fodera quelle della cucitura vadano a contatto con l'interno quindi non si vedano dall'esterno in pratica ora se l'avete fatta proprio precisa al millimetro va bene però insomma sicuramente soprattutto se avete un pezzettino di bordino che va che vi avanza se la rigirate tutte le imperfezioni della della cucitura vanno nel rovescio del lavoro vedete io in questo caso avevo lasciato un pochino più lunga la la parte della del bordo di chiusura in questo caso mettendo la doppia mettendo dall'altra parte poi una volta che cuccio la mia fodera non mi dà più fastidio e dalla parte interna della della borsa soltanto il pulito ora vado a ripiegare leggermente il bordino iniziale appena appena vado a cucire alla borsa quindi piego gli angolini della borsa in modo che il quadrato sia abbastanza perfetto adegu il quadrato all'interno della borsa e poi inizio a cucirla da dove ho terminato praticamente richiego leggermente il bordino e lo fermo al bordo della borsa lasciando il punto aperto quindi entro nel punto lateralmente così il punto lo lascio aperto questo entro nel punto lateralmente così poi torno indietro lateralmente entro nel punto così piego l'altro pezzettino accanto rientro appunto successivo lateralmente punto indietro punto avanti lo potete fare anche messe così entrate nel punto indietro punto avanti punto indietro punto avanti e procedete così fino ad aver fissato tutta la fodera all'esterno della borsa una volta che abbiamo terminato di cucire tutta la fodera all'interno della borsa vedete con il tulle rimane molto leggera come come fodera andiamo a far sparire il filo di cucitura così come facciamo sparire sempre i fili di lavorazione poiché questo è un filo di nylon ed è molto molto scivoloso io consiglio di farlo sparire in questo modo perché così non rischiate che vi si sfida la cucitura entrate all'interno dei punti di lavorazione così poi farete con tutti i fili di lavorazione entrate all'interno di un po di punti uscite entrate all'interno più punti prendete più siete sicuri che la cucitura non vi sedisse perché il nodino per quanti nodini voi possiate fare quando chiudete sul sul nylon è sempre un'incognita perché comunque non è un filo di cotone che si irrigidisce con il nodo il nylon è molto molto scivoloso quindi io preferisco farlo sparire in questo modo quindi lo faccio passare praticamente per tutta la lunghezza del filo che mi rimane lo faccio entrare nei punti lavorati in modo che così non mi si disferà mai ecco qui dopo che l'ho fatto passare attraverso un bel po di punti posso tagliare via con la sicurezza che la lavorazione che la cucitura non si non si disfa ecco che adesso noi abbiamo la nostra foderina molto carina molto leggera ora riprendiamo l'uncinetto inseriamo l'uncinetto nel nell'asolo nel punto che abbiamo lasciato in sospeso e andiamo a riprendere la lavorazione e lavoriamo due giri concentrici con le maglie come si presentano quindi lavoriamo ancora due giri di 96 maglie entriamo nei punti normalmente abbiamo chiuso abbiamo cucito la nostra fodera in modo da lasciare liberi i punti quindi possiamo riprenderli tranquillamente marchiamo sempre il primo e andiamo a fare nuovamente due giri di lavorazione adesso andiamo a togliere il marca punti ci agganciamo la maglia e facciamo una maglia bassissima così tiriamo tagliamo fermiamo il filo adesso prendiamo la cerniera la apriamo ed entriamo all'interno così allarghiamo la parte intorno alla chiusura e la distribuiamo uniformemente se leggermente più grande ovviamente in qualche punto sarà più grande perché la lavorazione non è mai la ma non è mai uguale andremo comunque a sistemarla questo essendo un filato metallico abbiamo l'opportunità di adeguarlo con le mani vedete mettiamo in avanti le due linguettine reggi catena entrate con l'ago all'interno della chiusura e andate a prendere uno dei buchini che ci sono così entrate dentro il buchino e fate passare il filo dall'altra parte quindi inserite lago all'interno del buchino successivo e uscite dall'altra parte inserite con il dito spingete la lavorazione nella nella scanalatura che abbiamo qui e poi andate a cercare il punto successivo punto successivo uscite dall'altra parte e nuovamente nel nell'altro punto riagganciate da un'altra parte il filato e riuscite sempre nello stesso punto di entrata uscite fuori dall'altra parte qui non abbiamo più buchini quindi andremo a lavorare sulla lavorazione all'uncinetto poi col dito andate a spingere dall'altra parte della figura ed entrate con lago nel primo buchino e acchiappate il filo da la lavorazione da dietro e rientrate così e nuovamente nel buchino sotto lo cercate con la punta del lago è molto semplice da trovare non c'è bisogno di impazzirci più di tanto poi un buchino accanto e uscite acchiappando la lavorazione e spingete col 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 dito o vi aiutate come preferite con un con il fondo di un di un uncinetto un qualcosa che passi nella scanalatura poi a prendete un altro punto dal dalla lavorazione all'uncinetto e rientrate di sotto punto successivo procediamo così sino ad aver inserito tutta la lavorazione all'uncinetto all'interno della scanalatura e averla fissata bene una volta che avete fatto un giro e se vi sembra poco potete rifarne un altro che tanto vi risulterà molto molto più semplice dal momento che la lavorazione quindi la borsa è già attaccata passiamo adesso alla decorazione della nostra borsa e io ho pensato alla realizzazione di questo fiore nel quale avete il tutorial separato da questo perché se non realizzato in nero avevo paura che non si vedesse quindi prima del tutorial della borsa nel canale trovate la realizzazione di questo fiore il tutorial del fiore del crisp flower e potrete poi decidere appunto se montarlo sulla borsa aperto cosa che farò io perché rende di più sulla borsa montato aperto così e potete decidere se cucirlo sulla borsa o come farò io applicare una spilla di queste di queste spilline qui che trovate nelle mercerie ci sono potete anche utilizzare un paio di spilla da baglia se volete se volete poter avere la possibilità di togliere e rimettere il vostro fiore io infatti utilizzerò la spilla perché così se voglio utilizzare la borsa senza il fiore posso farlo se voglio mettere il fiore avrò quindi due borse poi potete decidere anche di realizzarne due di fiori un po più grosso non un po più piccolino da da mettere uno accanto all'altro insomma quello sapete io vi do degli spunti sarete poi voi a decorare la la vostra borsa a seconda del vostro personalissimo gusto per renderla unica ed eccola qui come appare una volta terminata la vostra bellissima pochette è un progetto estremamente particolare molto bello semplicissimo l'avete visto da realizzare ma di grande effetto poi la peculiarità di questo filato non ha bisogno come vi dicevo di una lavorazione esageratamente complessa poi ognuno di voi potrà decidere anche di realizzarla con un punto più particolare ma se voi aggiungete appunto un un punto come un fiore direi che l'effetto poi finale per questa questa chiusura è splendida e l'arricchisce molto io vi ripeto il punto lo lascerei molto semplice così è elegantissima raffinata originale e molto 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 particolare a questo punto l'avete capito nostro tutorial di oggi è terminato io con questo spero di aver accontentato le tantissime amiche che continuano a chiedermi le borsine da sera le borsine eleganti le borsine un po particolari questa è una pochette veramente perfetta per la sera e soprattutto per la sera dell'ultimo dell'anno è veramente molto molto chic e brillante al punto giusto non mi resta che salutarvi aspettarvi tutte sul gruppo di facebook gli amici dell'angolo di crisi vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo tutorial